Ripensando alla mia infanzia, mi chiedo come sono riuscito a sopravvivere. Un'infanzia infelice, ma un'infanzia infelice irlandese è peggio. E un'infanzia infelice irlandese cattolica è anche peggio. Frank McCart, scrittore statunitense di fama internazionale, New York, 19 agosto 1930, stessa New York, 19 luglio 2009. Nato da padre l'ordine irlandese e da madre irlandese, entrambi devoti al cattolicesimo, ed è per questo che l'autore ne fa uno dei temi principali del libro, e che in varie occasioni rappresenta un bivio a cui non si può prescindere. Fin dai primi anni l'autore che per l'appunto scrive della sua vita, si ritrova insieme alla madre ad affrontare i drammi che nessuno mai dovrebbe sopportare. La morte prematura della sorella, Margaret, un padre dedito al bere e che puntualmente si beve il sussidio, trascinando l'intera famiglia nella povertà più assoluta, e poi la conseguente morte di altri due fratellini gemelli, dovuta alle condizioni estreme in cui vivevano. A soli 11 anni Frank viene abbandonato dal padre, lasciando la moglie e gli altri tre figli sopravvissuti nella sperduta Limerick, Irlanda, una piccola cittadina nel quale predominano il classismo e di pregiudizi legati alla religione di cui i più poveri, ovviamente, ne fanno le spese maggiori. La mancanza di cibo, soldi e carbone portano l'intera famiglia a doversi trasferire dopo un improvviso sfratto e non trovando nessun luogo che li potesse accogliere, vanno dal cugino di Angela, un uomo rozzo e crudele che abusa della donna in cambio del mantenimento gratuito della sua famiglia. Così Frank si ritrova l'uomo di casa e solo dopo essersi ripreso dalle varie malattie ed aver capito cosa fossero quei rumori notturni provenienti dalla stanza della madre, disgustato si trasferisce dallo zio, la sua mente brillante si ritrova a dover lasciare la scuola ai soli 13 anni per aiutare la famiglia. Trova dei lavori saltuari e all'età di 19 anni torna nel suo ambitissimo paese, gli Stati Uniti, dove riuscì finalmente a laurearsi. Nel 1958 riesce ad ottenere una prestigiosa borsa di studio che lo porterà ad insegnare inglese in ben due scuole del paese. Le Ceneri di Angela nel 1997 riceve il premio Pulitzer e ancora prima nel 1996 il National Book Critics Circle Award per il romanzo più amato in tutto il mondo. Era inevitabile che nel 1999 si presentò il film omonimo diretto da Alan Park. Le due opere si rispecchiano molto ed il film riesce in maniera estremamente drammatica e realistica a rappresentare le condizioni di sofferenza delle famiglie in quegli anni. Il film inizia gettandoci subito tra le braccia dell'umida miseria. Le prime inquadrature sono dei vicoli e del cielo piovoso, a differenza del libro, che fin dalle prime pagine cerca di entrare nell'animo del lettore, spiegando ed analizzando le condizioni di quel tempo. Bisogna riconoscere al regista il suo grande lavoro. Troppo spesso, e si nota, è stato messo in difficoltà dalla presenza della chiesa irlandese, censure e cambi di frasi. Nonostante la difficoltà nel girare delle scene così crude, si è comunque riuscita a trasmettere al pubblico quella sensazione di immedesimazione e solidarietà che rende un film unico. Come spesso accade, molte scene, forse troppo, a parer mio, sono state tenute fuori nella rappresentazione cinematografica, facendola apparire più snella di quanto dovesse. È un libro che nasce per entrare nell'animo di ognuno di noi, che lascia delle sensazioni sottopelle indescrivibili ed è un peccato dover snellire un film e delle sue scene più significanti. Nonostante le inevitabili omissioni, il film riesce comunque a mantenere la potenza significante del libro. I temi della religione, della povertà, dell'infanzia e della speranza risuonano con forza. Si sottolinea il concetto dell'istruzione come unico mezzo di salvezza ed il fatto che Frank è diventato insegnante ha il suo riscatto. Quella che viene raccontata è la storia autobiografica di un'infanzia infelice irlandese e cattolica e, come già accennato in precedenza, è quanto di più brutto potesse capitare ai ragazzi McHart. Nel corso del libro l'autore vuole sottolineare con delle descrizioni minuziose quanto sia stato difficile per lui sopravvivere in quei tempi, nella cittadina più esclusiva del paese. La forza di un'opera letteraria, penso, si riflette in gran parte nella sua capacità di infiltrarsi sottopelle, di farsi strada tra le crepe dell'animo di ognuno di noi. Frank McHart c'entra il punto. Riesce con il suo stile, decisamente originale, a raccontare fotografie di alcuni momenti chiavi delle varie fasi della sua vita e della sua famiglia. Un periodo di guerra, Inghilterra e Irlanda sempre in forte contrapposizione e la miseria è il pane quotidiano. L'orgoglio non ha limite per un uomo irlandese andare ad aiutare la terra nemica in quel periodo significava disonorare la sua di terra e piuttosto, come in questo caso, si preferiva abbandonare la famiglia. Nel corso di tutto il libro, forza predominante è il tema della religione. Proprio su questo l'autore vuole basare il suo racconto. Si vuole descrivere quanto una religione che a volte si presenta in maniera ossessiva ed obbligata porti inevitabilmente ad un mondo di netti. Ed ecco che lo scrittore fa entrare un altro tema ricorrente, l'ignoranza. Un'ignoranza che porta la famiglia e tutto il mondo povero della cittadina di Limerick a vivere nelle più nascoste fantasie. I bambini diventano ragazzi ed ecco che vogliono sapere, vogliono capire come nascono i fratelli, vogliono capire cosa sono quei rumori che Frank sente nella stanza della madre. Nessuna risposta, mai nessuno si degnava di spiegare, perché è reputato un peccato cristiano, cosa sia l'amore. Forse perché nessuno mai l'ha reputato amore, ma solo sesso. In questo, come in tanti altri temi che mi hanno toccato in prima persona, mi sento in dovere e libera di poter esprimere il mio pensiero a riguardo. Inutile sottolineare il mondo classista in cui vivevano, risate, disprezzo, questo è quello che riservavano gli ambienti guardando le condizioni in cui erano ridotti a vivere i poveri. Gli aiuti, se possibile, non si davano, anzi, la porta molto spesso neanche si apriva. Fa riflettere a quanto sia paradossale un paese, ma che potrebbe confrontarsi con tante realtà attuali, che millanta così tanto uno stato cattolico nel quale il prossimo viene prima di te e dove Dio ti punisce per ogni atto considerato impuro, che si perde in un bicchiere d'acqua. La donna figura principale all'interno del libro, e non solo, per tutta la comunità. La donna madre dedita alla famiglia senza la quale non andrebbe avanti, senza la quale non ci sarebbe un futuro. Donna vista in molti casi come oggetto, tipico di quel periodo. Una donna vista come oggetto di sfogo dell'uomo, utile a fare figli, semplicemente una fonte a cui attingere dopo una sbronza al pub. È impressionante quanto tutti questi temi trattino uno per uno, e con tutte le loro sfaccettature, possano essere traslati perfettamente in una società qualunque di questo tempo, e la cosa di certo non rincuora. Nessun motivo in particolare, se non un consiglio, mi ha portato alla scelta di questo libro. La sua fama a livello internazionale, ed essendo uno dei romanzi più letti al mondo, mi hanno spinto ad approfondire la lettura. È stata la scelta migliore che abbia mai fatto in tema dei libri. La consiglierei a chiunque, riesce a toccare ogni singola corda che sia questa quella dell'amore, della coscienza, della sensibilità, della riflessione. Ti trasmette, ma soprattutto riesce a lasciarti un segno. Inizialmente è un libro che per il suo particolare modo di scrittura, periodi lunghi senza pause, né virgole, si fa fatica a leggere, e molto spesso non si capiscono riferimenti per lui scontati. Lo scrittore lo fa apposta, cerca volontariamente un modo per far rileggere al lettore delle parti per lui fondamentali, per poter proseguire la lettura convinto che non gli sia sia dato il giusto peso. Lo scrittore lo sa, ogni qual volta che porta a rileggere dei frammenti di capitoli, si riesce a leggere fra le righe, cose che precedentemente non si erano capite, e se questo può risultare scocciante ed anche noioso inizialmente, è una tecnica che si amerà a lungo il corso del libro.